mazza quanti siete o no mi viene da piangere manco è cominciato allora io sono per quelli che non mi conoscono fabrizio faccio parte di opera di questa famiglia stupenda da circa un anno e mezzo ormai siamo arrivati a maggio l'anno scorso ho una compagna che con l'aiuto del signore adesso non la vedo lì spero diventi presto mia moglie da isabel e due bambine straordinarie che sono mia e maria che eccola una e mia ciao sono nato e cresciuto in una famiglia cattolica come tanti tante persone in italia e quando avevo sei mesi ero ormai spiritualmente pronto per battezzarmi quindi mi sono battezzato o mi hanno battezzato vedete voi qual è la storia migliore nella chiesa ho fatto un po di tutto ma non trovavo mai quel rapporto vero con la parola con il vangelo era tutto un po freddo non trovavo il mio posto in quella chiesa fatto il chirichetto la comunione tutto però non c'era posto per me lì dentro non al mio rapporto con dio era già piuttosto distaccato diciamo in piena adolescenza poi successe un fatto che distrusse la mia vita completamente pure mia nonna non nevelina era nonna madre sorella amica tutto quello che c'era nella mia vita e era una persona anche molto vicino a dio come la classica nonna italiana no quella che vai a comprare le sigarette torni ti fa mazza quanto sei asciugato amore mio no quella che mi metteva a fianco al letto mi metteva il caffè latte su una sedia attaccato al letto con la cannuccia rivolta già verso la bocca che se sa mai che ti muovi troppo appena sveglio no ecco poi se non ci avete avuto una nonna così non voglio sapere che infanzia avete avuto voi quella nonna ogni volta prima di andare a dormire io le dicevo ci vediamo domani e lei sempre tutti i giorni mi rispondeva se dio vuole sempre la sentì il giorno prima di morire era sabato io avevo il biglietto già pronto per lunedì per andare in friuli venezia giulia a trovarla e le dissi di nuovo ci vediamo lunedì e lei disse se dio vuole non morì tra la notte tra sabato e domenica e io mi arrabbiai solamente con dio perché ho detto perché non me l'hai fatta per evviva una volta proprio di far quello che ti faremo e quindi io e dio andammo su due strade completamente diverse da quel momento la mia vita prese una piega un po brutta mamma lo sa benissimo entrare una gamba tesa dritte la droga l'alcol anni di dipendenza da cocaina eccetera 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 e la colpa la dava a dio no dicevo non sei con me dove sei andato mai lasciato quando poi alla fine in realtà ero io che avevo lasciato lui non era lui che aveva lasciato perché lui un piano per me già ce l'aveva un piano bellissimo e da lì a poco infatti quando mi trasferì poi a berlino mi fece conoscere prima isabel che mi riportò piano piano in chiesa una chiesa diversa chiesa evangelica che non conoscevo assolutamente la mamma di isabel che con tutte le nostre divergenze differenze culturali di età non ha mai smesso di pregare per me sempre ha pregato perché gesù entrasse nel mio cuore ha pregato perché i demoni che erano con me andassero via demoni che tuttora ci provano mi seguono di notte di solito mentre torno a casa però li affronto vado avanti e vinco sistema matematicamente detto questo il piano era bellissimo grande ma io non lo capivo ero talmente distaccato che non riuscivo a vedere che cosa fosse pronto per me ho riscoperto la fede cristiana sotto un'altra luce ho imparato il potere della preghiera opera è stata poi il senti che battutino luca il colpo di grazia però questo da cabarettista stand up comedy degli anni 90 e persone come mila rené michele michele roggiata guardami michele roggiata luca e tutti quelli che sono presenti oggi mi hanno fatto riscoprire la fede cristiana sotto una luce completamente diversa e vi dico grazie per questo ragazzi grazie grazie veramente ho scoperto che essere credente non è uno schema culturale ma è un atto di fede che poi la cosa più difficile è fidarsi di dio sembra detto così una cosa facilissima se tu pensi che noi diciamo a mille persone fidati di me ci penso io to risolvo io il problema non ti preoccupare poi invece facciamo mai niente fondamentalmente non riusciamo a fidarci di colui che è la potenza la verità la luce paradossale no noi che facciamo e distruggiamo tre quarti delle promesse fatte non ci riusciamo a fidare di lui e allora sono andato dentro 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 e mi sono accorto che lui di me si è sempre fidato e io ho preso fiducia in lui piano piano grazie a voi grazie a tutti quelli che sono qui oggi ogni volta che combinavo qualche carta poi spiegherete voi che cosa vuol dire carta ai bambini vecchia non lo faccio lui era lì non mi ha mai lasciato morire di overdose non mi ha mai lasciato morire ubriaco in macchina non mi ha mai fatto combinare danni troppo grossi mi ha sempre riportato a casa sano e salvo come sono un buon padre sa fare non c'è nessun altro che può fare nello stesso modo ho visto una montagna di immondizia in vita mia e tre quarti l'ho fatta con le mani mie per cui me la sono cercata e l'ho combattuta l'ho combattuta con lui e mi ha fatto vincere anche questa battaglia per cui ti ripeto non vi ripeto non mi ha mai abbandonato ma perché perché lui aveva un piano molto più grande un piano speciale per farmi aprire gli occhi piano che noi non vediamo ecco fino a oggi forse non l'avevo visto così bene fino a che non mi avete detto di dover parlare a tutti e trovare le parole giuste ho ripangato nei miei tre giorni passati a scuola alle superiori per fare il riassunto della mia vita che gli altri giorni ci passavo davanti ma non è che proprio c'entravo molto a scuola e lui è stato buono con me anche quando io l'ho disconosciuto l'ho trattato male l'ho lasciato perdere l'ho buttato in un angolo lui è sempre stato lì e ha sempre avuto fede in me per cui sapete che chi è dipendente poi rimane dipendente per sempre fondamentalmente no le dipendenze si curano con altre dipendenze il modo migliore è un dipendente da droga ritrovi un lavoro diventa falegname va a fare sport trova dio però le dipendenze noi le avremo sempre bisogna solamente veicolarle dalla parte giusta e io ho deciso oggi che la mia dipendenza è gesù è l'unica dipendenza che voglio avere sarà difficile comunque mantenerla e portarla avanti però ce la faremo anche stavolta e per cui lascio che sia lui a manipolarmi a far sì che la mia vita vada come vuole lui e per questo mi battezzo oggi nel suo nome nel nome di gesù lasciandoli fare tutto quello che vuole lui perché poi lì la fede no la fiducia e concludo con un'immagine che a me piace tantissimo e l'ho vista poi ieri di nuovo anche sul profilo di luca a proposito che sono le mani più famose del mondo no sono opera tanto lo so quindi in salve e foglio sono le le mani di michelangelo no dio e adamo lasciando per il preconcetto cattolico la pittura il dio bianco i capelloni leviamo quello e pensiamo alle mani no sono la mano di dio è lunga e tesa con le dita completamente e quella di adamo che rappresenta noi sta lì come si dice in francese a cionnoloni no e a me fa pensare in realtà che la mano di dio c'è sempre ma poi il tocco finale quello per la vita eterna il passo più difficile dobbiamo far noi lui c'è la così siamo noi che rimane a cionnoloni Amen Fabrizio credi tu che Gesù sia venuto è morto per i tuoi peccati ed è risorto per darti la vita eterna nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo che fai che stiamo e 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